C'è un ramo nel nostro disco che si chiama Cool, Cool, Cold in the Town e vado a... in quel momento in cui ti ritrovi di fronte ad una scelta, ad un video e non sempre si ha la mente fredda e lucida di prendere una decisione su due piedi in fretta e furia e si riesca di prendere facilmente la decisione sbagliata ed è la storia di questo ragazzo in Cool, Cool, Cold in the Town che fa la scelta sbagliata, cade in una fredda 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 città da cui dovrà rialzarsi e ricominciare a vivere Cool, Cool, Cold in the Town Dì, però facciamo la scelta Dì, le ho stavosto che s'entrae questa interna Dì, in quel momento a poter Grazie a tutti 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 Grazie a tutti